Quanto sta accadendo all'ospedale di Pescara, in particolare al pronto soccorso del Santo Spirito, è molto grave e dimostra gli errori della giunta Marsilio. Così il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, che illustra la linea del Partito Democratico. Un fatto gravissimo, abbiamo denunciato insieme al collega Blasioli come Partito Democratico che si tratta di una vera e propria interruzione di pubblico servizio. Peraltro in un momento in cui lo stesso governo regionale ha accampato, in qualche modo millantato, le innumerevoli risorse che sono state stanziate e spese per quanto riguarda il personale. Ben 50 milioni di euro di spesa per il personale è quello che ci si racconta che invece si scoppia, non ce se la fa e che addirittura manca il personale per erogare il servizio minimo. Quello addirittura dell'accettazione in qualche caso. Chiediamo un intervento immediato della giunta regionale. Sulla carenza di personale nel nosocomio abruzzese Paolucci parla di scelte errate nella programmazione sanitaria che penalizzano oggi i cittadini. È un fatto gravissimo la denuncia che manca il personale quando invece in questi tre anni, due anni e mezzo di giunta a Marsiglio, si sono spesi oltre 300 milioni di euro in più e soprattutto 50 solo per il personale a cui vanno aggiunte o anche le risorse umane assunte con i cosiddetti servizi, cioè con le agenzie interinali e le cooperative. È un fatto che non può accadere, ecco perché denunciamo da tempo che manca sia la programmazione e sia la gestione, la governance nella sanità abruzzese.